Attenzione ragazzi, Autofine Summer Live, se lo sai qui, dalla spiaggia del Basilico Beach, 47, 48, ospita niente meno che dal vivo, dal vivo, Gigi D'Agosto! Solo, solo, solo su, M2, 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 incredibile ma vero. Voi che ci ascoltate a casa, succede sul serio, qui, a Rimini, stabilimento Basilico Beach, Provenzano di Z, Autofine Summer Live, 06, solo su, M2O, e in questo momento, suona, Gigi D'Agostino! 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 Questa notte ho necessito una liberazione Abrazzate Viento Te sta trasportando Viento Vos te sta trasportando Viento Una liberazione Abrazzate 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 Grazie a tutti. 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 6, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 2. Attenzione ragazzi perché il flusso ritmico e cardiaco di Gigi D'Agostino si ferma per qualche minuto. Ed eccoci tornati nuovamente in diretta nazionale su Out of Mind Summer Live qui dal Basilico Beach Rimini 47, 48 bagno. Sopra la sabbia sotto al sole Gigi D'Agostino solo su M2 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 Sopra la sabbia. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti